C'è un sistema di libertà posizionata di una serie di avversi diversi. I segnali di questo progetto sono manifesti sia nell'informazione europea, sia nell'informazione nazionale, ed in particolare nel procedimento del grande sistema, il corpo a file, che è preso diversi del senso romanzo di un avventuro, e di 17 giro dove l'avventuro, ma dovrebbe essere che si fa un'attività, forse, la psicologica, la performa nazionale del Digital Green Certificate, per l'emissione, il rilascio e la verifica dei certificati verni. Tutti i database coinvolti sono in strutture aperte ad un'intero parametra con tette parti, che si basano sulla tecnologia della blockchain, che rende impossibile la contrattazione. E questo sistema è pronto per essere usato per richiedi addizionali e tipologie di certificazioni diverse.